L'importanza e il significato dei sogni, citazioni dei grandi pensatori. I sogni sono un universo misterioso ed affascinante, ricco di simboli e significati nascosti. Sigmund Freud, padre della psicanalisi, definiva i sogni come la via regia verso l'inconscio. Per lui, i sogni rappresentano desideri repressi e pensieri nascosti. Anche Carl Jung, psichiatra e psicoanalista svizzero, considerava i sogni come un ponte tra la coscienza e l'inconscio. Secondo Jung, i sogni possono aiutarci a comprendere meglio noi stessi e le nostre emozioni. Ma non solo gli scienziati si sono interessati ai sogni. Anche filosofi e artisti hanno spesso riflettuto sul loro significato. Come disse una volta il grande poeta irlandese William Butler Yeats, i sogni sono la realtà che attende di essere realizzata. Per il filosofo greco Aristotele, i sogni erano invece un modo per il nostro cervello di elaborare le informazioni ricevute durante il giorno. Una sorta di pulizia mentale, per così dire. Infine, ricordiamo le parole di Edgar Allan Poe, i sogni sono le nostre finestre sul futuro. Da sempre, infatti, l'umanità ha cercato di interpretare i sogni come presagi o segnali di ciò che il futuro ci riserva. Cosa rappresentano i sogni per te? Speriamo che questo video ti abbia stimolato a riflettere sull'importanza dei sogni e sul loro significato. Grazie per la visione. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per essere aggiornato sui prossimi video. Grazie per la visione.